La terra di Romagna è sportiva, è un asso sportiva, che sia bicicletta, piedi o motori. La Romagna poi è un territorio molto interessante per la bicicletta perché ha un po' tutti i percorsi. Fare fatica sui pedali vuol dire prima di tutto combattere con se stessi, perché il primo avversario sei te stesso. Io dico sempre ai ragazzi che ci vuole il cuore e la testa. Il cuore è la passione, la testa è la convinzione di voler fare uno sport che ti porta a grande soddisfazione. La due per bene è un'emozione ogni volta che la faccio. Fare sport di solidarietà vuol dire non pensare a se stessi, ma pensare agli altri. La caratteristica del Romagnolo è quella di essere sempre comunque solidale e accogliente con le persone. Il Giro d'Italia si concludeva dopo 3.500 km, ma il giorno dopo quando ero a casa avevo già voglia di pedalare. È lo spirito del Romagnolo, di non mollare mai, comunque sì. Grazie. 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 Grazie.